Il collegamento con quello che ci siamo detti finora, se l'innovazione dei processi di produzione dei dati e delle modalità con cui dati vengono disseminati all'esterno è la cifra del nostro tempo, questo ha delle ripercussioni importantissime su come definiamo la qualità del dato, che come ha detto il Presidente Giovannini all'inizio di questa giornata è quello che separa la conoscenza, ciò a cui miriamo, dalla diffusione di numeri che invece confondono e non portano valore aggiunto e conoscenza. Se la qualità quindi è quello che caratterizza il valore aggiunto del lavoro dello statistico sulla qualità ci dobbiamo interrogare ma in un'ottica però nuova che tiene conto delle sfide che l'era digitale comporta, su questo abbiamo intorno al tavolo persone di altissima qualità fortunatamente che possono assisterci nel dare delle indicazioni, il professor Luigi Fabris dell'Università di Padova, il professor Carlo Filippucci dell'Università di Bologna, il professor Giorgio Alleva dell'Università di Roma che sono tutti professori di statistica e poi abbiamo Marina Signore che è la responsabile del servizio che si occupa di qualità dei dati statistici all'interno dell'Istat. Quindi devo dire la tavola, i panelist sono molto appropriati, io voglio spendermi la mia citazione e poi passo subito la parola al primo dei relatori, nel numero di ottobre della Harvard Business Review che parlava proprio di big data e di come i big data possono essere utilizzati per cambiare i business models, quindi i processi produttivi si citava una famosa frase di un esperto di management che diceva you cannot manage what you don't measure e quindi il tema della qualità, il tema della misurazione è importante anche per modificare i processi di produzione. Da questo partirei e darei la parola in ordine da programma e il professor Luigi Fabris. Io sono sì dell'Università di Padova, sono anche membro del Comstat e ogni tanto mi sono accorto dei discorsi degli altri che ragiono in due modi diversi secondo che appunto sia mi medesimi come accademico e oppure mi medesimi nel produttore di dati Istat. Big data. Credo che questa sia la chiave di lettura odierna della statistica, è irreversibile a meno che non torniamo al pianeta delle scimmie e abbiamo tanti dati, secondo me troppi ma non importa, e abbiamo visto che ce ne sono anche di utili, tantissimi di utili. In modo particolare io vedo come utili per la statistica i dati di tipo amministrativo e farò nel seguito degli esempi con le comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro che conosco bene, nel senso che ho avuto anche dal Ministero stesso l'incarico di analizzarli in un modo particolare che adesso vi presento. L'altra cosa è che gli archivi sono tra loro collegabili attraverso un sistema semplicissimo di parole chiave, tanto è vero che per fare il censimento delle istituzioni non profit l'Istat dice che ha unito quasi 30 fonti amministrative e statistiche e questo è una delle cose a cui dobbiamo abituarci. Sostanzialmente siamo presenti dappertutto, c'è una serie di legami che uniscono le nostre informazioni per quanto riguarda le variabili con cui veniamo descritti. E l'altra cosa è per fare archivi più grandi, voi avete sentito che si parla di anagrafi nazionali della popolazione, cosa che uno si meravigliava fino all'altro giorno che non ci fosse, perché c'erano le anagrafi comunali e basta e invece adesso con l'informatica questo è possibile. L'altra cosa che noto è il passaggio graduale ma anzi sempre più pesante dall'indagine statistica di tipo tradizionale a sistemi informativi, vale a dire sistemi che sono basati sulla totalità o quasi delle unità e che riguardano invece una struttura che rappresenta tutte le unità statistiche. Quindi c'è un cambiamento epocale del paradigma di comunicazione dell'informazione da l'unità elementare che la possiede, può essere il cittadino, l'impresa eccetera, alle istituzioni di tipo statistico. Non faccio una lezione sulla qualità dei dati perché mi interesso solo tra le dimensioni della fidabilità, anche se pure l'utilità dei dati sarebbe una cosa molto importante, la tempestività lo è, l'economicità lo è, però queste sono cose che si raggiungono in modo molto più facile parlando di informatica, il mio problema, il problema di cui parlerò è quello dell'affidabilità. Salto una serie di cose e noto che rispetto alla tradizione della copertura dell'insieme atteso, che cosa c'è di nuovo quando si parla di dati amministrativi? Quello scritto in celeste, cioè che ci dobbiamo porre la domanda se i dati registrati corrispondono agli obiettivi di conoscenza che noi abbiamo in mente, perché abbiamo visto che tutte queste cose sono bellissime, mobilità, ma guarda solo quella cosa lì, se non hai bisogno di quella cosa lì, tutto il resto, cioè moltissima parte di quello che c'è registrato è del tutto inutile, invece è chiaro che se la statistica ha un ruolo nella società, lo ha perché anticipa, perché permette di prendere decisioni e questo riguarda via via che ancora più nel futuro che adesso, insomma, una quantità di decisioni sull'intera esistenza dell'individuo, delle imprese, delle istituzioni e così via. Stiamo perdendo il problema della precisione campionaria, vale a dire di quella componente della statistica che lega il campione, vale a dire l'unità che ci permette di acquisire le informazioni, che ci permette ancora adesso, ma che una volta era molto più grande, come dicevo, in termini di importanza, a un più generale discorso di natura di inferenza, quindi di conoscenza, di realtà che quel campione rappresenta. Tutto il resto rimane grossomodo lo stesso. Faccio un ragionamento sulla completezza, perché quando si parla con gli informatici, però sembra che tutto quanto sia perfetto perché abbiamo tutti i dati. Secondo me niente di più sbagliato, assolutamente niente di più sbagliato, adesso non faccio il censimento, parlo male, non dell'Istat, ma parlo male di un problema che riguarda appunto un censimento, no ma in realtà non è che ne parlo male, parlo male perché non se ne fa più, perché è un atto di resa, e cioè nel 1981 sono stati fatti i controlli di qualità del censimento, la legge obbliga a fare il confronto censimento-anagrafe, alla fine del confronto censimento-anagrafe mancava un milione e mezzo di record. Allora, dopo aver fatto tutti i confronti con l'anagrafe, aver aggiustato, aver rimandato la gente sul campo, ne mancavano ancora 930.000 al censimento, facendo il confronto con l'anagrafe che ne aveva di più, ma alcuni mancavano in anagrafe, alcuni c'erano al censimento, altri mancavano al censimento, non pensavo di averlo spento ma non ci sono riuscito, ecco, mancava 2,7% all'anagrafe e 2,7% al censimento. Questo nel 1981, l'Istat fece il gesto generoso di mettersi in piazza e disse, guardate che questi sono i problemi, fu attaccata violentemente dai giornali che dicevano che l'Istat non sa fare il proprio mestiere. Questo è per spiegare l'intelligenza della categoria di persone che si chiama giornalisti. Allora, nel 1991 l'Istat rifece il controllo di qualità del censimento, confrontando con l'anagrafe come obbliga la legge anche nell'ultimo censimento, invece di 930.000 ne mancarono un milione e 30.000, non perché l'Istat non impara, ma perché le questioni di rilevazione sono veramente difficili, è sempre più difficile inseguire la gente con i questionari in mano e quindi voglio dire, l'Istat è quello che lo sa fare meglio di tutti, senza dubbio. Il problema è che da quella volta l'Istat non ha più pubblicato questi dati per ovvi motivi, perché evidentemente se facendo bene il proprio mestiere si viene attaccati, è chiaro che manca la volontà di, come dire, almeno farle sapere all'esterno queste cose. L'idea sostanziale è che non esiste statistica, non esiste dato elementare che sia privo d'errore e quindi il problema è come padroneggiare l'errore. Faccio due, paio di incursioni nell'ambito degli uffici del sistema statistico nazionale, adesso ci sono un flusso di dati continuo che arriva dalle amministrazioni, che arriva dal territorio, in ambito locale ci sono gli uffici di statistica, che sono una specie di collettore che porta i dati al centro. Questi diventeranno un giorno il ganglio nervoso periferico di un sistema che riceverà una quantità di linfa informativa dalla periferia e che ha bisogno, a mio giudizio, di avere incorporato questa idea di qualità, perché altrimenti se vale solamente la regola che basta che entrino nel circuito informatico i dati e sono perfetti, evidentemente il compito dello statistico, degli uffici di statistica è assolutamente saltato, scavalcato e quindi rende anche poco utile. L'altra grossa cosa, quindi io vedo l'importanza dell'Istat e del sistema statistico nazionale nella codifica dei processi di produzione del dato, nella creazione di un sistema di metadati e dopo vi faccio un esempio, se mi resta un minuto di tempo, è un problema di formazione di cosiddetti certificatori di dati, perché lo statistico è una parola che se rimane con la logica accademica perde veramente il suo ruolo, ha bisogno di avere capacità più eclettiche, certamente anche di informatico, ma certamente anche di una persona che entra sul significato delle singole cose che trasmette al centro. C'è un problema per l'accademia che per me è molto importante, che è quello di rimodellare gli statistici esattamente come sta facendo l'Istat al proprio interno, perché molto semplicemente nell'università italiana non ci sono corsi su come si fanno le indagi nell'ambito accademico, si fanno tantissimi esami di teoria dei campioni, il cui ruolo formativo, stante quello che vi ho detto prima, è decisamente messo in discussione. Salto tutta una serie di cose per farvi vedere una cosa che mi è stata, quella che vi ho detto prima, che mi è stata passata dal Ministero del Lavoro come compito di analisi, Ciderba, insomma qua non è lo stesso computer ma non mi importa, allora noi abbiamo collegato quasi 12.000 nostri laureati dell'Università di Padova ai dati delle cosiddette comunicazioni obbligatorie che sono informazioni che ogni impresa che assume un individuo deve mandare al Ministero del Lavoro e che cancella o mette in un posto particolare quando viene terminato il rapporto di lavoro. Su quasi 12.000, poco più della metà, il 58%, li abbiamo trovati sia nelle comunicazioni obbligatorie, cioè su questi, sia con l'Inps, perché abbiamo collegato poi i dati anche dell'Inps con quelli dell'Università e abbiamo trovato che il 58% era identificato. C'erano un certo numero piccolo, pari al 4,7%, che erano presenti solo come lavoratori ma non avevano nessun stipendio, quindi non erano presenti quelli dell'Inps, c'erano quelli che erano solo dell'Inps, che erano 1.500, vale a dire il 13,1%, che non c'erano né qua né là 2.800 e che sono iscritti all'Università straniere, che lavorano in nero, che lavorano all'estero, che sono morti, che sono usciti al mercato, abbiamo trovato gente che si è fatta a Monaca e così via, e che si è rifiutato ovviamente di collaborare in qualsiasi modo con questi sistemi. E 832 che non erano presenti in nessun archivio. Questo per spiegare che la completezza dei dati è assolutamente fondamentale. Non c'è in nessun archivio. Vi dico una cosa di più. Gli archivi del Ministero sono archivi in cui vengono registrati le immissioni e le cancellazioni dal lavoro. Se uno rimane sullo stesso posto, quando entra, per tutta la vita rimane, cioè non si sa di lui niente, anche se magari è stato assunto come precario e alla fine ha finito come Presidente dell'Università. Per esempio Luigi Fabris non ci sarebbe mai, perché è entrato come precario ai suoi tempi, purtroppo adesso, moltissimi anni dopo, si troverebbe nella stessa posizione. Fabris e Luigi non ci sarebbero in archivi di questo tipo. La seconda cosa importante è questa. Una cosa è scrivere un atto amministrativo, cioè iscrizione e cancellazione. Altra cosa è dire uno è occupato o non è occupato. Faccio un semplicissimo esempio. Abbiamo trovato casi in cui c'erano 50 iscrizioni e cancellazioni all'interno di un anno nei record individuali, che significa che uno era stato assunto e terminato il rapporto di lavoro 50 volte. Allora se io voglio sapere, questo individuo qua, quell'anno lì, lo considero lavoratore o non lavoratore? Occupato o non occupato? Se guardassi la definizione istat, non capirei niente. Se guardassi una definizione, non capirei niente, perché per quanto riguarda forse il lavoro, vuol dire la settimana precedente, la rilevazione, non c'è nessuna rilevazione, perché riguarda tutto l'anno. Quindi bisogna riscrivere tutto quanto. Bisogna arrivare a un sistema di metadati che permetta di interpretare le cose dal nuovo punto di vista, che non è più quello delle indagini, è quello dei nuovi archivi, che hanno una razionalità loro. Non sono dati individuali, sono dati individuali di episodi. Le statistiche private hanno cambiato tutto pure lì, per esempio le statistiche delle imprese. Io ho sfidato i colleghi, dimmi negli ultimi anni quante volte sei stato chiamato per fare un minimo di consulenza per quanto riguarda le ricerche di mercato. Non si fanno più ricerche di mercato. Le imprese se le fanno con la forza lavoro loro, la loro rete di vendita, la loro rete di distribuzione, eccetera, che fungono da osservatori da lontano, osservatori indiretti della realtà. Non sono i possessori delle informazioni basilari, sono osservatori che guardano quelli che possiedono queste informazioni. Ecco, anche questo dal punto di vista accademico va tutto ripensato. Cioè noi non possiamo più dire che tutta la parte qualitativa, come viene chiamata questa cosa qua, oggi non ha più importanza. Quindi credo che bisogna per forza ripensare alla professionalità dello statistico. E in questo senso credo che bisogna identificare un minimo di professionalità dello statistico, la qualità dei dati diventa più fondamentale ancora di qualsiasi altra capacità che lo statistico possa avere e lo statistico, soprattutto del sistema statistico nazionale, deve anche abituarsi a elaborare dati perché solo così si riesce ad acquisire quella capacità di percezione della qualità del dato. La qualità del dato non è come il medico che ci mette le mani sopra o come l'informatico che dice tutti i bit sono uguali, lo statistico capisce se la qualità è buona, se e solo se appunto è capace di capire il senso delle novità, di capire il senso delle cose che stanno molto lontano da quelli che sono i valori attesi e cose di questo tipo. Quindi prima cosa. Seconda cosa poi deve aver interiorizzato il significato profondo dei metadati che cominceranno a circolare in modo più massiccio all'interno del sistema statistico nazionale. perché la questione è questa, non esiste il dato di qualità, la scatoletta di conserve è di qualità se è buona, ma uno può assaggiare tutte le conserve per sapere appunto se sono buone, bisogna che abbia l'idea del significato profondo del sistema di qualità, vale a dire se una scatoletta è virtualmente buona, se appunto il sistema da cui è prodotto è di qualità. Quindi la qualità sta nella qualità di questi produttori, se vogliamo chiamarli statistici va bene, se non li chiamiamo in altro modo, questi produttori di dati. e a questo punto mi viene anche in mente se l'Istat è capace di garantire il suo sistema produttivo avendo il 12% del totale dei componenti degli uffici di statistica, che è statistico di formazione, va benissimo, perché l'Istat è anche capace di avere i suoi filtri, di formare la propria gente ex post, quando è uscita dall'università, mentre per quanto riguarda le statistiche sociali, le statistiche terze, quelle che sono chiamate dagli tribunali, oppure da qualsiasi altra cosa, insomma le statistiche che servono per la società e che sono quelle che fanno opinione, oggi è assolutamente necessario che noi cominciamo a pensare a un produttore di statistiche che abbia una qualche convalida. fatta apposta, se l'università non è in grado, non fa quel tipo di attività che dà questa specifica capacità, perché magari uno si specializza in altre cose, quando produce dati deve per forza essere in qualche modo certificato. E da questo punto di vista io credo che dovremmo fare in Italia esattamente come stanno facendo tutti i paesi di lingua inglese, gli inglesi, gli americani, i canadesi, gli australiani e via, sono numerosissimi i paesi che hanno lo statistico certificato, cioè un buon produttore di statistiche, è uno che si dice che ha una qualche certificazione. Albo, non albo per queste cose qua, sono tutte cose assolutamente meno rilevanti, credo che sistemi flessibili e agili, anche come quello che ha messo in piedi l'Inghilterra, che poi l'ha insegnato anche agli altri paesi di uguale lingua, e cioè di fare lo statistico professionale con sistemi di autocertificazione, che sono sistemi in cui uno che ha voglia di fare quel mestiere, perché se uno vuole fare il camionista non c'è mica bisogno di cose come queste, ma se uno vuole fare quel mestiere deve avere appunto una qualche forma di certificazione sulla sua capacità di essere in grado di essere un buon produttore di statistiche. Va bene, salto il rischio dell'autoreferenzialità, non lo salto perché sostanzialmente è un inno all'Istat, perché l'Istat su queste robe è stata sulla capacità di consultare coloro che saranno i destinatari delle attività di informazione, e cioè di quella utilità di cui parlavo prima, che è parte integrante del processo di qualità, l'Istat sicuramente molto avanti ha creato il sistema degli utenti, il sistema di consultazione degli utenti che loro chiamano CNUIS, che significa appunto un gruppo di utenti privilegiati che viene consultato periodicamente per sapere quali sono i bisogni di conoscenza, e quindi partendo dai bisogni di conoscenza, senza piegare il significato dell'informazione al modo in cui è stata prodotta, ecco si può arrivare a fare quel processo virtuoso che vedo che l'Istat ha già cominciato, il fatto che l'Istat sia riuscito a inserirsi in quelle dinamiche importanti che sono appunto, a parte il censimento continuo su cui non possiamo essere che felici, ma anche in tutti quei processi di modernizzazione della società che richiedono informazione fresca e informazione informante, credo che questo sia sicuramente un titolo di merito dell'Istituto di Statistica. Anche il fatto che ci sia una COGIS, che vuol dire la Commissione di Garanzia per l'informazione statistica, che dovrebbe vigilare sulla imparzialità e sulla completezza, eccetera eccetera, e quindi di nuovo sulla qualità dell'informazione, credo che sia molto importante, perché se è vero che tutte le informazioni sono utili a chi le usa, è anche vero che c'è un grossissimo problema oggi, secondo me, con tutti questi linkage che possiamo fare tra informazioni provenienti da sistemi diversi, di riuscire a sapere tutto di tutti, e credo che ci sia una cosa assolutamente molto importante di difesa della privacy e anche di modalità di erogazione delle informazioni che siano su base di dati oppure aggregati in forma statistica che siano tali da poter essere diffusi in giro senza offendere il diritto del cittadino ad avere una propria vita privata. Grazie. Grazie al professor Fabris anche per essere stato molto nei tempi, questa questora è sempre apprezzato, quindi di nuovo non mi prendo troppo tempo, se non per dire una cosa, siamo passati dalla visione delle stelle e dei grandi sistemi e siamo subito entrati nella cucina, l'esempio che il professor Fabris faceva dell'analisi di qualità su un pezzetto di un archivio che si chiama comunicazioni obbligatorie, è un po' il senso del tipo di lavoro che in maniera crescente dobbiamo fare anche dentro un posto come l'Istac, come statistici in generale, perché il modello di produzione dei dati statistici è cambiato e quindi non si può fare a meno di utilizzare fonti diverse.